Allora, ematite deriva da ematos sangue, in greco, perché la polvere sciolta in acqua ricorda proprio il sangue, diventa rosso sangue. Come vedremo poi a sound healing, perché facciamo tutto un approfondimento sui punti chakra anche, e vediamo anche i chakra extracorporei, l'ematite va in risonanza con un nostro chakra extracorporeo che si trova sotto i piedi, che si chiama terra stella, però veramente approfondimenti li vedremo poi. L'importante è da sapere che quel chakra, essendo comunque fuori dal corpo, ci mette in contatto con il centro della terra. L'ematite è composta di ferro, va in risonanza con il centro della terra, che comunque si ipotizza sia fatto di metallo fuso, ad altissima temperatura, sotto altissima pressione, e prende una struttura regolare geometrica pseudo cristallina. Non può essere cristallina pura se è liquida, però con tutta la forza che gli viene compressa, prende questa struttura pseudo geometrica, pseudo cristallina. Quindi entrando in questa forte risonanza aiuta a radicarci meglio in generale, quindi contatto con il pianeta, contatto con il momento presente, e è fondamentale partire da un cristallo come questo. Quando una persona magari tende ad avere sbalzi di umore, piuttosto che notate che non è centrata, ha il primo cristallo da consigliare come mantenimento e le matite. Sempre. Cioè, se consigliate questa non va mai male, non fa mai male a nessuno. Né a chi è troppo in alto, né a chi è troppo, comunque, portato verso la materia, perché comunque aiuta a definire il proprio spazio. Ve lo ricordate che abbiamo detto che è un cristallo anche di protezione per i confini dello spazio sacro. Ok? È anche molto bello se volete provare a sperimentare su di voi delle cavigliere di matite. Tutte e due, però, le caviglie. Ok? Per portare un bel equilibrio. E quello va a creare un bel contatto. Se volete comunque sperimentare, magari due matiti piccoline, tenete dei calzini leggeri leggeri di cotone e ci dormite la notte mettendoli esattamente a pianta del piede. Ok? E questo sentirete che va subito in contatto con il corpo e creerà delle situazioni interessanti. Sperimentate voi. Sono tutte cose che ho sperimentato anch'io e a me sono piaciute molto. Nella disposizione che facevamo su noi stessi, usavamo tre matiti, piedi, e una la mettevamo al centro. Ok? Questo per creare un ipotetico triangolo verso il basso, piedi, contatto con la terra. Ok? E ne mettevamo intorno otto, di base però dicevo che ne bastavano quattro, a seconda dei punti cardinali. Quindi sarebbe importante capire la posizione dei punti cardinali nella stanza dove fate i trattamenti, in generale. Ok? Direzionare verso i punti va anche a fare un lavoro energetico con le direzioni. Per cui con i cristalli è un qualcosa da controllare, soprattutto quando si fa un lavoro con le griglie. Ma anche questo lo vedremo a Sound Dealing. Questa è come se fosse una griglia. Sulla persona viene chiamata disposizione. Un po' come quelle che abbiamo visto, pietra del sole e pietra di luna, o quella che abbiamo visto, celestina intorno alla testa. Vi ricordate? Ho detto, una celestina intorno alla testa raggera quando la persona va in ansia, va in panico. Ecco, quelle sono disposizioni. Man mano più avanti ne vedremo altre, però diciamo che andiamo a gradi, andiamo a step. Di base possiamo pensare di metterne quattro, abbiamo detto, a seconda dei punti, quindi ipotizziamo che là ci sia una direzione. Di base a me piace posizionare la testa a nord. Poi dipende anche da come è messa la stanza. Se non ce la fate, vedete di posizionarla magari, possibilmente, a una delle direzioni. Ogni direzione ha una sua energia, questo sarebbe da approfondire. Approfondiremo anche questa cosa comunque a sound healing, che l'abbiamo già fatto. Nel caso comunque, non so se l'hanno fatto a shamanic. Che cosa è? L'energia delle direzioni. Sì. Perfetto, quindi la conoscete già. Ok, a posto. Quindi potete anche andare a richiamare quella a seconda di dove la testa viene posizionata. Per cui a me piace dire alla persona quando entra nella stanza, per certi trattamenti, dove senti di voler stare. E quello è interessante. Ti dà anche lì un'indicazione in più non verbale del lavoro che deve fare la persona. Ok? Quindi, uno, due, tre. Questo sarà l'ipotetico fondo. Due al fondo dei piedi che fanno triangolo. Adesso la testa è a sud. Adesso va bene, ok. Non ho per dire. Però con la camera facciamo, teniamolo così intanto. Poi dopo fate come volete voi. A sud comunque ha tutto un suo lavoro. Quindi ci sta. Se poi volete estendere anche con le altre quattro nei punti ordinali, potete farlo. Questo però vedete voi che cosa vi sentite di fare. Diciamo che di base ne basterebbero quattro. Così vedete che stiamo contornando la persona. L'abbiamo chiusa in un cerchio di amatite. Allora, il lavoro che facevate voi su voi stessi era di sentire i cristalli, respirare l'energia e comprenderla. Respirare questo radicamento. Il cliente è in uno stato di rilassamento. Non possiamo dire percepisci i cristalli che sono tutti intorno a te. Cioè, questo non si aspetta neanche che li hai messi. Quindi, qui che cosa stiamo andando a fare? Un lavoro di radicamento. Mettiamolo nel grounding. Verso la fine andiamo a disporre i cristalli. Giriamo intorno alla persona. Li andiamo a disporre. E poi guidiamo la persona con o senza mani sulle caviglie. Magari potete anche suonare il tamburo o battito del cuore per il cuore della terra. Piuttosto che, come viene a voi, o anche i sonagli o il cosci terra. Però a me piace anche radicare col cosci terra. So che è un po' strano, però a me piace farlo. E guidate la persona a concentrarsi sul, come stamattina, respirare l'energia che sale dai piedi, che entra nel corpo. Questo scambio che avviene con la terra. Lo sentirà amplificato dai cristalli. E quindi già quello è qualcosa che va ad ancorare il lavoro, a radicare il lavoro. Perché radicamento non è solo il contatto con la terra e non è solo il contatto con la materia. Ma noi dobbiamo pensare anche a integrare le energie nel corpo fisico. Perché se no parliamo tanto di lavoro, ma finché non viene integrato nella memoria cellulare, il lavoro poi è volatile. Perché bisogna anche integrarlo nei corpi sottili. Avete visto nelle mie meditazioni come guido sempre, respira, raccogli e fissa. Anche ricordarlo di fare come lavoro per me, per la mia modalità, è importante. Questo non è che dovete farlo tutti, non siete obbligati. Io ho trovato funzionale per me questa modalità. I cristalli aiutano tanto anche in quello, soprattutto la tormalina nera e le matite. Integrare. Un po' tutti in realtà. Perché loro sono vibrazioni molto sottili e sono perfezione geometrica. Sono... Se noi immaginiamo la sorgente... La sorgente, noi diciamo, è perfezione. Ok. Quindi è anche una disposizione perfetta di energia. Un po' come il quarzoialino che è completamente trasparente. Se li puntate dietro alla luce del cellulare, avete visto che molti cristalli poi hanno una luce spettacolare. Nella loro trasparenza, però se ne andiamo a guardarvi al microscopio, hanno proprio una struttura perfetta di geometria. Quindi che cosa vuol dire? Che portano nella materia una di queste lezioni, che è questa perfezione, questa bellezza assoluta. Per cui loro portano qualcosa di immateriale, per noi addirittura solo concettuale, nel fisico. Quindi le energie aiutano a portarle nelle nostre cellule, nella nostra materia. Ok? Ci sono domande? Puoi anche metterle prima, però non devi poi più toccarle. Dopo le togli e le vai a togliere nell'ordine inverso da come le hai messe, come al solito. Ok? E magari per ultime togli però quelle tre là. Quindi togli prima gli ordinali, poi dopo togli i cardinali e per ultime però togli le tre. E questo avrebbe anche, come dicevi che fa anche una protezione per tutti i trattamenti, cioè che fai il trattamento, no? Quando tu lo tieni in tasca, non è che se tu fai il cerchio sulla persona fai protezione a te. Cioè, questo è perché tu stai circondando la persona con questi cristalli e quindi loro lavorano da tutte le parti sulla persona. Ok? Io direi che provate a sdraiarvi qua all'interno, anche solo per sentire il cambio di energia che c'è dal campo fuori. Cioè, qua lo sentite che loro hanno creato un campo di forza. Se provate, sentite. E se vi mettete dentro, sentite come l'energia all'interno è cambiata. All'interno è cambiata. Ecco, magari si potrebbero mettere già all'inizio dei cinque minuti di silenzio prima del grounding. Così lavorano per più minuti. Questo sì. Nel silenzio? Magari nel silenzio inizio a mettere i cristalli, che anche se sento tic-tic, poi se invece avete sotto un tappeto non si sente niente. Le disposizioni non si possono fare molto bene sul lettino. È per quello anche che io lavoro a terra. Perché se io poi devo circondare la persona di cristalli... Come faccio? Quindi, ovviamente, se c'è la persona... Prima ho fatto così a caso. Se la persona è sbagliata non vado a fare come ho fatto prima. L'ho fatto puramente... Quindi tolgo... Giro intorno... Poi vado a togliere... E l'ultimo, quello che va a contatto con la Terra. Ok? Ci sono domande? Ok, allora adesso ci sono qua tutti questi cristalli a disposizione. Se volete provare, provate a farlo. Sarebbe carino che provassi a farlo anche voi.